Andiamo immediatamente con buon esambigliamento a mia mamma Elie Gorizia, guarda! Da tanti anni loro curano l'immagine. Sì, loro da tanti anni curano la vostra immagine rendendola sempre trendy e fashion. Infatti guardiamo da questa sfilata lo stile di questo negozio con questi bei vestitini che potranno fasciare il vostro splendido corpo. E poi il bello c'è la promozione, il 10% alla cassa, cari amici. Guarda che vestiti rinascimento e varie manche. Certo, con questa nuova stagione rinnovate i vostri armadi, fate il cambio stagione e andate da Bonnes a comprare nuovi abiti. E poi state attenti, non andate in giro perché loro hanno i prezzi veramente speciali. Voi andate da un'altra parte, li pagate di più e fate anche la strada. Invece qua li pagate veramente di meno e avete lo sconto, avete delle cose particolari. E la scelta soprattutto, guarda, dal nero al rosso, tutti i colori per ogni vostra occasione. E poi marchi veramente favolosi come il Rinascimento, come Cruzè, tantissime cose. Jeans che vi avvolgono e noi guardiamo così felici e contenti, come quando che cammina. Allora vi ricordo, buon assemblamento, via Mameli Gorizzi, andate lì, fino alla pubblicità.